Da oggi il simbolo del Movimento 5 Stelle perde il nome di Beppe Grillo. Intanto sul blog i video di presentazione dei candidati per Roma. Nei prossimi giorni il voto online. Francesco Cristino. Mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle già a partire dalla sua nascita. Molti nel Movimento tendono a mettermi i piedi sopra. Sono architetto. Devo invece confessare che sono un giornalista. Affrontati, analizzati e risolti. Eccoli i video curriculum dei 209 candidati 5 Stelle per Roma. Ci sono i quattro ex consiglieri in Campidoglio ma anche attivisti distribuiti nei 15 municipi della capitale di tutte le estrazioni. I dieci più votati si giocheranno la candidatura a sindaco. Democrazia diretta, niente stanze segrete, rivendica il blog. Ci affideremo ad un volto non noto. Di Battista non sarà il candidato, ribadisce la Ruocco dal direttorio. Che intanto dopo il caso quarto continua a collezionare grattacapi sul fronte campano. A Napoli dove è alta tensione sul candidato sindaco e fa rumore. Il dissenso dei 36 attivisti sospesi per aver dato vita ad un gruppo su Facebook è ora in sciopero della fame. C'è la regia di Fico. Forse lui non vuole disturbare la corsa di De Magistri se noi, accusano, gli diamo fastidio. Eccolo intanto il nuovo simbolo del movimento. Via il riferimento a Grillo. La visualizzazione plastica del passo di lato del fondatore. Specialmente perché il Movimento 5 Stelle deve essere di tutti. Degli attuali rappresentanti politici e specialmente dei cittadini che a partire dalle prossime amministrative vorranno dare un volto diverso ai principali capoluoghi italiani. Ma Grillo impegnato nella nuova tournée da domani a Roma è già sold out e di fatto ancora il dominus. Dal suo blog dove attacca il premier 24 mesi di balle accusa Renzi millanta successi ma ora minaccia le pensioni di irreversibilità.